Siamo qui con Luca Ceccaroli, innanzitutto ciao Luca, grazie alla disponibilità. Ciao Luca, ti volevamo chiedere, sicuramente è una partita molto importante per voi, comunque dopo la Champions League arriva anche l'Europa League, ti volevo chiedere come affronterete questa partita, sicuramente è anche una squadra molto più rinomata rispetto al Santa Coloma. Sì, assolutamente, abbiamo visto qualche filmato, in serata e nella giornata di domani approfondiremo con altri filmati per vedere come giocano, però sì, sulla carta sono forse un gradino sopra il Santa Coloma, quindi bisogna fare ancora più attenzione, rimanere ancora più compatti e cercare di fare quello che sappiamo fare e poi il campo dirà come andrà la partita. È stato fatto meritatamente notare come parteciperai agli allenamenti di preselezione per quella che è la nazionale. Pochi giorni fa abbiamo intervistato Mazza che ha voluto risottolineare come deve essere importante nel campionato sanmarinese e far giocare a punti sanmarinesi, incentivare il gioco nostrano. Te cosa ne pensi e soprattutto sei orgoglioso di essere una delle possibili colonne portanti di questa nazionale? Ma assolutamente sì, fortunatamente quest'anno ho trovato molto spazio nel mio club, sono riuscito ad avere una buona continuità sia a livello di rendimento che a livello di realizzazioni anche personali e quindi non posso essere che contento di questa chiamata. Ti ripeto, è ancora presto, è una preselezione, è sicuramente un buon punto di partenza. Ora dovrò dimostrare al mister quello che so fare e poi lui dirà se sono pronto o no nella prossima scrematura. Grazie mille Luca e in bocca al lupo per la partita di domani. Crepi il lupo, grazie a te. Grazie mille Luca e in bocca al lupo per la partita di domani.